Sono opinioni personali. Allora, scusa, questo non lo tocco, ma io. Eh! Io, 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 quel culone che ho! Con le gambe basse e muoversi. Io! Schietta e sopra! Oh, Paola, è scivo, sembra merda! Oh, no, non lo so, non lo so, non lo so. Ah, no! Siii! C'è, vicino! L'avete ancora fatta giungere la palla di 600? La prima! Cinque! No, 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 salta! No, 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 salta! No, no, salta! Ok, chiamo! No, no, salta! No, no, salta! No, salta! No, salta! No, salta! Grazie. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.